e oggi parliamo della settima arte tra le pagine del nuovo libro di antonio ludovico che è venuto a trovarci nei nostri studi buongiorno avvocato e benvenuto buongiorno buongiorno a voi allora di professione avvocato ma grande passione per la musica per il cinema per i libri presentiamo il suo ultimo libro c'era una volta in italia la settima arte in cento capolavori del cinema italiano pm edizioni allora io partirei proprio da una domanda avvocato è un libro che lei ha scritto in un periodo difficile quello della pandemia un periodo in cui i cinema erano chiusi però come dire avevamo grande possibilità di guardare serie televisive o altro in streaming però dedica ha deciso di dedicarsi alla scrittura e al cinema sì ho cominciato a vedere il primo film perché il mio studio legale era tristemente vuoto non sapevamo che fare non potevamo uscire e allora detto vabbè comincio a vedere film su youtube ho cominciato a vedere il primo film poi il secondo il terzo ho cominciato a scrivere mi sono appassionato ho rivisto ho visto e rivisto tantissimi film perché molti di questi naturalmente li avevo già visti e ho scoperto veramente un tesoro infinito veramente noi abbiamo passato a cavallo tra gli anni 50 gli anni e gli anni 70 abbiamo passato dei decenni meravigliosi il cinema italiano è veramente dappertutto abbiamo vinto per abbiamo fatto incetta di premi da Cannes ai premi oscar a berlino roma venezia chi più ne ha più ne mette veramente c'è stata è una sorta di rinascimento ecco l'epoca d'oro del cinema italiano l'epoca d'oro del cinema italiano che ha insegnato come si fa cinema praticamente a tutto il mondo cento film che in qualche modo vanno a coincidere anche con dei centenari importanti di nascita di pezzi da 90 del cinema italiano assolutamente sì voglio ricordare non più il prossimo anno o meglio quest'anno saranno i cento anni di Marcello Mastroianni la nascita di Marcello Mastroianni che è citatissimo naturalmente non poteva essere altrimenti in questa carrellata di film ci sono personaggi veramente giganteschi come De Sica come Sergio Leone come Mario Monicelli come Ettore Scola come Pier Paolo Pasolini che è uno dei miei preferiti insomma veramente c'è da divertire mi sono veramente divertito a scrivere questo film a leggere interviste a guardare spezzoni insomma è stato veramente un divertimento assoluto che è durato oltre oltre cinque mesi una cosa meravigliosa quello che mi ha colpito di questo libro sono delle schede molto brevi ma intense di ciascun film film che appunto che lei ha scelto a sua discrezione e a fine scheda da un voto a questi film che vanno dal 6 e mezzo al 10 anche 10 lode però mi ha colpito in particolare che ha dato 2 6 e mezzo non me l'aspettavo a dire il vero pensavo che sarebbero stati solo dall'8 e mezzo in su invece ci sono due sufficienze e più vabbè sono i film sono alcuni film che comunque vale la pena di vedere esattamente come tutti gli altri però probabilmente non hanno quell'aura di grandezza che hanno tutti gli altri tenete conto che in questi film ci sono tanti premi oscar tanti proprio una cosa veramente incredibile e comunque anche laddove non ci siano premi oscar ci sono film che sono veramente passati alla storia qua stiamo parlando veramente di storia del cinema gli americani hanno letteralmente setacciato il cinema italiano tarantino lo dice praticamente in ogni sua intervista il mio è solamente un'attività di scopiazzamento del cinema italiano e in particolar modo di sergio leone e chiaramente il sergio leone insomma ho riempito le pagine questo libro quanti quanti 10 e lode ci sono e ce ne saranno almeno 10 11 citiamone uno il suo 10 e lode per eccellenza allora i e vabbè la ciociara non può non essere un 10 e lode la ciociara praticamente con vittorio risica sofia la una sofia loren stratosferica qualcosa veramente di inimmaginabile sorpasso ce ne sono almeno un paio di sergio leone che sono qualcosa di pazzesco i primi di pier paolo pasolini a cattone uno dei miei film preferiti il vangelo secondo matteo che secondo me è la l'immagine di gesù cristo più bella mai proiettata sul grande schermo e insomma veramente c'eravamo tanto amati insomma siamo qualcosa anche il primo fantozzi secondo me è qualcosa di una maschera incredibilmente alta da tutti i punti di vista dolce amara leggo la prefazione di antonio capellupo giornalista cinematografico operatore culturale che scrive lo cito perché c'era una volta un tempo in cui andare al cinema non era considerato un'abitudine occasionale ma rappresentava piuttosto un rito sociale conclamato da ripetere fino a 15 o 20 volte all'anno noi continuiamo a mantenere fede a questo rito oppure adesso con le piattaforme abbiamo un po perso è completamente cambiato la fruizione del della di questa arte di questa settima arte perché adesso sono entrati in ballo voglio dire le piattaforme e c'è la televisione che praticamente la fa da padrone e quindi si va molto di meno al cinema prima andare al cinema intanto si andava in compagnia si andava in massa era veramente una sorta di rito la domenica pomeriggio era inevitabile specie dopo la partita perché le partite si giocavano tutte alle 14 e 30 ma dopo la partita era inevitabile che riempire le sale di cinema e soprattutto con questi film aggiungerei lei raccontava prima appunto che per dedicarsi alla stesura di questo libro ha rivisto dei film ha letto delle interviste quindi comunque ha fatto un grande lavoro di ricerca quale film ha rivisto con piacere quale film rivedrebbe potremmo dire anche all'infinito perché ci sono dei capolavori che quando vediamo è come se li vedessimo per la prima volta potrei citarne qualcuno ci eravamo tanto amati di mario monicella è qualcosa di veramente incredibile che tra l'altro rivisto altra sera su iris a cattone di pier paolo pasolini e di una bellezza straordinaria mi ho inserito anche uccellacce e uccellini il vangelo secondo matteo la trilogia western di sergio leone ma ripeto farei dei torti agli altri registi se non li citassi tutti quindi veramente sono uno più bravo dell'altro quelli di desica insomma sono veramente qualcosa di incredibile sicuramente ne ho tenuti fuori almeno altri 70 80 ma non potevo fare un film un libro da 200 film un merenghetti no assolutamente non mi andava di fare questo quale film consiglierebbe a un giovane di vedere oggi ai giovani il sorpasso sicuramente uno di quei film film che per fortuna per fortuna ancora è uno dei dei pochi di questi cento film che ancora passa ogni tanto per le nostre emittenti il sorpasso sicuramente è un film da vedere rivedere perché ogni volta si trova qualcosa veramente di che prima non te ne riaccorto ci sono anche quelli di nanni loi ci sono quelli di lina vert muller tutti belli sono perché sono veramente pasqualino sette bellezze qualcosa il secondo tempo è qualcosa di straordinario perché si passa da una napoli che stava vivendo praticamente il periodo della voglio dire la seconda guerra mondiale ad una ai campi di concentramento e lì praticamente cambia il ritmo cambia la scena sempre con giancarlo giannini è veramente monumentale spero di non farlo una domanda scontata ma che fascino a il cinema vedere un film al cinema è differente da vederlo a casa davanti non possiamo avere anche l'home theater oggi a casa anche uno schermo ultra attrezzato però il fascino del cinema c'è un fascino che non possiamo replicare a casa perché secondo assolutamente sì il fascino della sala buia il fascino del silenzio il fascino della consapevolezza che nessuno ti deve disturbare ti può disturbare non c'è la pubblicità e non ci deve essere la pubblicità ci mancherebbe altro non non ti alzi per andare a prendere un caffè e mettere magari stop e poi riprendere diciamo nessuno dovrebbe utilizzare ma questo non si fa i cellulari perché dovrebbero rimanere secondo me rigorosamente spenti e bisognerebbe immergersi in quella che è una realtà immaginifica ma spesso e volentieri ci si rivede noi stessi noi ci rivediamo appunto in tantissimi film ed è quello che ho voluto dare in queste storie scusami perché in queste storie praticamente ci si rivede quello che eravamo noi italiani quello che erano i nostri genitori quello che erano i nostri nonni tanto è vero che si parla della prima e della seconda guerra mondiale in tantissimi film la ricostruzione quanti film sono dedicati alla ricostruzione operata subito dopo il 46 e quindi ci guardiamo allo specchio attraverso questi grandi capolavori potere del grande cinema e di chi dimostra di saperlo amare per davvero se lengo sempre nella prefazione di capellupo quale film ha visto recentemente al cinema allora recentemente al cinema io ho la buona abitudine di andarli a vedere tutti i film sono rimasto molto impressionato favorevolmente impressionato nonostante abbia letto qualche critica negativa secondo me assolutamente ingiusta da parte sul film della cortellese mi è piaciuto molto mi è piaciuto il tono che ha dato la cortellese a questo film dove ho detto che c'è stato un accenno di neorealismo mi è piaciuto molto anche il film di martin scorsese l'ultimo film di martin scorsese ambientato in ambientato in un in un epopea western di fine ottocento inizi novecento quindi praticamente quando il western il fashion western ormai era alle battute conclusive ripeto ancora una volta la cortellese mi ha colpito molto chiaramente sono state interpretazioni straordinarie tutte naturali tutti gli attori mi è piaciuta molto l'ambientazione mi sono piaciuti dialoghi la storia secondo me è una storia che colpisce e mi è piaciuto anche l'uso del bianco e nero e poi soprattutto ho avuto il grande merito di riportare finalmente la gente a cinema non per un cine panettone e questo voglio dire non è un merito da poco grande merito io la ringrazio per averci dedicato il suo tempo quest'oggi consiglio ai nostri amici c'era una volta in italia la settima arte in cento capolavori del cinema italiano firmato da antonio ludovico grazie per essere stato con noi quest'oggi quindi buon cinema a tutti e noi restituiamo la grazie grazie